Il colosso delle logistiche Acno, lo stesso che ha costruito i business park di Broni e Stradella, potrebbe essere un passo dall'acquisizione dell'ex Iperdi di Cigognola e dei terreni limitrofi, alcuni dei quali nel territorio di Broni. Sono queste le ultime indiscrezioni che trappellano sul futuro dell'area produttiva e commerciale sull'ex Statale 10, la vecchia Via Emilia, una direttrice sulla quale proprio fra Broni e la piacentina Castel San Giovanni, da qualche anno a questa parte, si sta assistendo a una proliferazione di logistiche. I condizionali sull'identità degli acquirenti e sui loro piani per quest'area, adiacente a quella industriale dell'Axilopan, che sembra vivere un momento di rilancio dopo anni di difficoltà, restano però d'obbligo, ma chiunque sarà il proprietario, il comune di Cigognola saluta con favore le trattative su quest'area, dismessa ormai da troppi anni e bisognosa di un rilancio. Risulta informalmente che ci sia stata l'asta presso il Tribunale di Monza nel dicembre scorso, che era competente per il concordato che coinvolgeva la società proprietaria del fabbricato ex IperD, ex Arredo Mercato Il Trepo, e l'aggiudicazione mi risulta sia intervenuta nel mese di dicembre scorso. Poi i tempi burocratici e tecnici per definirla non li conosco perché non siamo parte di questa procedura concorsuale, però fortunatamente ci dovrebbe essere a breve l'insediamento di una società importante, di un attore già presente sul territorio che dovrebbe a sua volta o cederlo a terzi a seconda degli interessi, oppure gestirlo in prima persona. Per noi sarebbe importante perché sicuramente ci garantirebbe una riqualificazione completa dell'area e mi auguro anche un nuovo insediamento produttivo di modo che ci sia occupazione sul territorio. Secondo me è un buon segnale che può farci sperare che nei prossimi anni in quelle zone tornino ad insediarsi delle attività che per il comune banalmente diano gettito e che rappresentino anche una risorsa per l'occupazione del territorio.